mancavano le faggette ragazzi un rosino e il bocciolotto la dopo la zanetta non c'è tanto però qualcosa qualche bello frangotto c'è ora c'è un meredule il mister gamba lunga mister gamba lunga guardate che bello e poi c'è anche il fratello c'è anche il fratello o il cosino bene ok ragazzi andate così quindi veramente bello e vedete i gemelli rossi sembrano sculture sono senza parole guardate che splendore guardate rossi rossi e qua cosa c'è e qua cosa c'è che spettacolo che spettacolo è rossi guardate questa è una covata guardate che spettacolo che meraviglia è una covata ora togliamo bene per preservare il vicennio così non si asciuga guardate un po' e andiamo di rosso guardate un po' dove andate a lasciare questa oggi è un po' complicato però guardate che funghi che ci sono guardate che bombe che spettacolo viene lo macchina adesso lo tiriamo via però i funghi a bottiglia sono proprio dei boccianotti veramente belli sono straordinari guardate che funghi mi mettete in una maniera scritta guardate chi è più di vera guardate qua guardate qui il boccianotti e anche un po' 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 questo è stato rosso il metismo perfetto qua c'è un poker di rossi guardate incredibile chassi questo è piccolo sono fuori i rossi edulis 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 guardate 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 bene ok la natura è veramente perfetta adesso vi dico il perché se guardiamo un attimo lo spariamo guardate che ritrova guardate spettacolo sempre rosse questi però sono piccole questo invece merita guardate che fungo stupendo tenetevi forte ragazzi perché sono dei funghi sono una bellezza incredibile è veramente spettacolare sani e duri come le pietre spettacolo tutti i bocciolottini però piccoli questi dai sono ancora ragazzi li sconoscendo a giro anche perché non ci rimane niente però 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 questi due gemelli li raccogliamo eh bene sempre due gemellini con questo gnoccone qua vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti ciao ragazzi